Amici, oggi vi mostro tutti gli acquisti che ho fatto da Miniso. Vediamo insieme cosa ho comprato, ma prima, sigla! YOLANDA SWITZ Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene, come avete passato la vostra giornata, spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Switz ed oggi sono tornata con un nuovissimo video degli acquisti di Miniso. Ho comprato un sacco di cose super kawaii, delle blind box, un sacco di cose, tema Sanrio. E ora vi mostro cosa ho preso. Ma prima di cominciare ovviamente questo video ragazzi, mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un bel pollice in su, iscrivetevi al mio canale ed attivate la campanella perché tutti i giorni potete trovare nuovissimi video sul mio canale qui Yolanda Switz alle 14.30 e alle ore 18. Ovviamente seguitemi anche sul mio sito www.yolandoswitz.it perché lì potete trovare tantissimi slime e kit per realizzare il vostro slime fai da te. Ecco qui la busta di Miniso. Nell'immagine di copertina, se siete state attenti, avete visto un po' di cosine. Allora, iniziamo. La prima cosina che avete visto lì nell'immagine di copertina è questa. Non è una borsetta, diciamo, per uscire, ma è una borsa frigo, una borsa termica. Ma la particolarità di questa borsa termica qual è? È che è di Cinnamoroll. Guardate quanto è carino il disegnino su di Cinnamoroll. Qui c'è il cartellino di originalità per Miniso della Sarrio. Questa borsetta qui costava 6 euro. Ecco perché l'ho presa. E' comoda quando vuoi andare in giro per comprare qualcosina di congelato che non sia troppo grande da mettere qui. La cosa bella è che si stringe. Questa è buona anche, per esempio, per andare al mare. L'altra cosa che avete visto, sempre nell'immagine di copertina, è questo. È un portacarte portamonete, sempre di Cinnamoroll. Lo sapete, raga, Cinnamoroll è il mio personaggio Sanrio preferito. Qui costava 5 euro. Questo è Cinnamoroll, proprio col faccione di Cinnamoroll. E all'interno è fatto così. Poi, per rimanere in tema Cinnamoroll, sì, ho comprato quasi tutto suo. Però, da Miniso, siccome c'era la nuova collezione, questa qui è la nuova collezione estiva della Sanrio, non c'era solo Cinnamoroll, non vi preoccupate. C'era Kuromi, c'era My Melody, c'era Pom Pom Purim, e sapete che è un altro mio preferito. Cinnamoroll, appunto. Non mi ricordo se c'era anche il Lock Kitty, probabile. Ora poi, sempre di Cinnamoroll, ho preso il bicchiere, perché giustamente mi mancava un bicchiere. Daniele è oramai qui, c'era di casa, tra poco, perché sto comprando un sacco di tazze e bicchieri. E il bicchiere, questo qua, plastica, l'ho pagato 2,50 euro. E questo mi ha convinta a comprarlo, perché è davvero carino. E poi ci sono tutte le fruttine vicino. Ti mostro un'altra cosa che non sia Cinnamoroll, dai, perché altrimenti poi vi stufate. Pom Pom Purim. Questo è troppo bellino. Potevamo trovare, c'erano sia Cinnamoroll, Pom Pom Purim e Kuromi. Infatti dietro ci sono i disegni di tutte e tre. Io però ho preso Pom Pom Purim, appunto, per variare un pochettino. Questo è un forma ghiaccio. Oppure, in realtà, si possono fare anche le caramelline o anche i cioccolatini. Insomma, la faccia è troppo carina. E lo apri, appunto, nella faccia di Pom Pom Purim. Per fare, io ho i cioccolatini, il ghiaccio, le caramelline. Perché poi si sformano tranquillamente essendo in silicone. Davvero carinissimo. E questo qui, pagato 5 euro. Non sono male, visto che sono cose originali Sanrio. Non mi aspettavo questi prezzi così, diciamo, piccoli, insomma. Ho comprato questa mollettina per appendere le cosine. Perché io ho una bacheca dove metto tutte le fotografie e le cose. Ho preso questa mollettina, questa clip pagata 2 euro di My Melody. Ecco, appunto, ho voluto variare, ho voluto cambiare un pochettino. La qua, una mollettina per appendere le cosine. Volevo prenderla perché mi piaceva, poi costava poco. Raga, adesso sono tutte cose di... Tutte cose di Cinnamoroll, raga. Abbiamo questi adesivi pagati 1,99 euro. Adesivi di Cinnamoroll. Così qua li voglio attaccare un po' dappertutto perché mi piacciono tantissimo. Poi, raga, Cinnamoroll è troppo bellino perché ha questa faccia molto cute. Io ho preso questa maschera, in realtà, per il viso. C'era, ve l'ho detto, di tutti i personaggini pagata 1,99 euro. Anche questa qui c'era sia My Melody sia Pom Pom Purin. È una maschera per il viso. Ultime due cosine, anzi tre. E poi ci sono delle blind box. In realtà anche questa è una blind box, ma la apro comunque adesso insieme a voi. Calzini, che adesso non metterò, ovviamente, perché fa caldo. Però sono calzini lunghi e mi piacciono tantissimo questa cosa, che siano lunghi. Ovviamente di Cinnamoroll. Pagati 4 euro. Sono arrighine bianche e azzurre. Porta chiavi, perché come vi ho detto voglio arricchire tantissimo. Oramai si porta tantissimo a arricchire le borse con i porta chiavi. E io ho comprato questo porta chiavi qui pagato 5 euro. Però il prezzo ci sta, perché sono porta chiavi abbastanza grandi e abbelliti tantissimo. Sembra Cinnamoroll, ma non lo è. È questo coniglietto, con sopra un altro coniglietto. Eccolo qua, è un coniglietto rosa con il campanellino. Qui c'è un fiore di ciliegio fatto tipo in resina. Ed è molto carino. Ce ne erano tantissimi, ragazzi, di questi porta chiavi così. Ora svuotiamo la busta, perché ci sono solo blind box. Ok? Abbiamo 4 blind box. Iniziamo con la prima. La prima blind box è questa qui, della Sarrio, dove all'interno troviamo un magnete per il frigo. Ovviamente è casuale, credo sia abbastanza grande. Non erro, dovrebbero esserci 3 tipologie di magneti differenti. E possiamo trovare tutti questi. Allora, sono questi 4 qua e 2 di qua. Quindi Cinnamoroll, Maimelo, di Kuromi, Pom Pom Purin, Pociacco e Dell'Occchitti. Ovviamente manifestiamo, ma mi stanno bene tutti, ragazzi, perché mi piacciono tutti. Poi sapete che io sono fissata con i magneti ed ecco perché l'ho comprato. Misterioso. Ma è con la mollettina! No, vabbè, raga. No, ok, credevo ci fosse lo spoiler. Questo qua ha pagato 6,99 euro. Essendo una blind box costano tanto, ragazzi, eh. Allora, apriamo il magnete. Oh, che carina! Bellina! È un magnete mollettina, io mica l'avevo capito. Magnete dietro. E puoi mettere sotto i foglietti per ricordarti le cosine. Adesso abbiamo due cose della Disney. Cosa normale. Mi ha attratto tantissimo questa blind box che è costata 8 euro. Un po' troppo, ragazzi. Ok, è finita la lavastoviglie. Qua dentro possono uscire tutti questi personaggini che dormono. Non vorrei avere lo spoiler, quindi, ragazzi, non voglio guardare all'interno perché di solito c'è la card con lo spoiler. Molto bene! Vediamo un po'. 3, 2, 1. Chi abbiamo trovato? Bellissimo! Ho trovato il maialino! Ragazzi! Quanto è carino! Eccolo! Pijama party! Pijama party! Adesso due zum zum. Ok? Un po' nella bustina e un altro proprio nella scatolina. Apriamo prima nella scatolina che questo qui in realtà già l'abbiamo incontrato la scorsa volta che ho aperto delle blind box appunto da Miniso. E sono dei portachiavi. Infatti io ho intenzione sempre di abbellire, bla bla bla, eccetera, eccetera, ma l'avete capito. Vediamo un pochettino quale abbiamo trovato. No spoiler! Vediamo un po'. Oh, bello grande questo raghi, eh. 3, 2, 1. Oh, che carino! Sì, non è un doppione! Abbiamo trovato... Tamper, pam pam, pamper. Il nome è scritto in inglese. Tamburino! Forse è tamburino? Allora ragazzi, ditemi voi chi è nei commenti. Penso sia tamburino di Bambi. Pallina zum zum. Non ho capito se è una pallina con all'interno... Come si chiama? Il pupazzetto? Oppure no? Sono sette tipologie. E sono tutti questi qua. 3, 2, 1. Apriamo? Oh no! È una pallina proprio! Abbiamo trovato Winnie the Pooh! Mi piace. Io ero super fan, ragazzi, di Winnie the Pooh. Questo lo dovete sapere. Quando ero piccola avevo tutti, tutti, tutti i pendaglini che si mettevano vicino al cellulare. E questa pallina con i portagliavi con Winnie the Pooh vicino. No! Che carino! Guardate Winnie the Pooh! Quanto è bellino! Questo è tutto. Questi sono stati tutti i miei acquisti più le blind box comprate da Miniso. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi abbia intrattenuto e strappato un sorriso come sempre. Io vi voglio bene. Un bacione e un abbraccione. Ci vediamo domani alle 14.30 con un nuovo video. Ciao!